Matteo Colombo, Labor Project. I padri latini dicevano che la società non può delinquere. Non è più così, quantomeno per i reati informatici. No, non è più così perché le società possono commettere reati informatici tramite i propri dipendenti. Ovvero, se un dipendente utilizzando uno strumento informatico aziendale commette un reato informatico, parliamo di uno, accesso abusivo ad un altro sistema protetto da misure minime di sicurezza, il giudice andrà a vedere se l'azienda ha dato a questo dipendente una lettera di incarico e se c'era un modello organizzativo sicurezza privacy. Se non c'era e quindi l'azienda non aveva un minimo di organizzazione, il giudice punirà anche l'azienda con sanzioni pesanti sia da un punto di vista economico sia come sanzioni interdittive e potrebbe anche sequestrare il server o i sistemi informatici. E questo porta a un grosso danno per l'azienda. Quindi il messaggio è che le aziende devono avere modelli organizzativi di sicurezza privacy, non devono lasciare tutta la documentazione privacy perché la semplificazione non è utile per l'azienda e noi possiamo aiutarli su questa attività.